Quarto fiocco azzurro per la 33enne. Il piccolo è venuto al mondo in Svizzera, il 28 febbraio. Papà è Lorenzo Guerrieri. Per nonno Silvio si tratta dell'undicesimo nipote un altro fiocco azzurro in casa Berlusconi. Barbara, 33 anni, ha dato il benvenuto a Francesco Amos, venuto al mondo il 28 febbraio in una clinica svizzera. È il secondo figlio con il compagno Lorenzo Guerrieri, 28, che arriva dopo 4 anni d'amore, e il primo genito Leone, un anno. La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è mamma anche di Alessandro, 9, e Giorgio, 7, nati dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza. Nonno Silvio, Francesco Amos è l'undicesimo nipote. Auguri. Top stories from social.